Ciao, benvenuto all'appuntamento con la Voyager Cup di oggi. Parleremo di passaporto vaccinale americano, con delle novità. Parleremo poi di un progetto italiano per rendere le isole covid-free e dell'andamento del settore turistico nel 2020 in Italia. Allora, apriamo parlando appunto degli Stati Uniti che dicono di no a una qualsiasi ipotesi di passaporto vaccinale federale. E questo per rispettare la privacy dei cittadini. La Casa Bianca dice che non si opporrà alla creazione in ambito privato di strumenti che possono aiutare la circolazione e lo spostamento, ma assolutamente non darà nessun appoggio alla creazione di questo passaporto vaccinale che credono sia praticamente come una schedatura. Sapete che gli anglosassoni assolutamente non vogliono essere schedati in nessun genere per rispettare la privacy, che è fondamentale. Per quanto riguarda invece l'Europa, sarà a breve, lo avremo, per quanto riguarda lo spostamento all'interno della comunità europea, e invece per quanto riguarda gli altri Stati, è già attivo in Israele e anche in Argentina, dove all'interno verrà inserito il numero del vaccino, la data in cui è stata fatta la vaccinazione, il numero delle dosi, ma anche quello che riguarda il tampone, ovvero quando è stato fatto, e il risultato che ha dato. E parliamo invece di isole libere dal Covid. C'è un progetto italiano, visto che ormai la Grecia lo ha lanciato, anche noi stiamo pensando di naturalmente darci una mossa. E mentre gli albergatori si lamentano, perché dicono che non hanno naturalmente prospettiva, e il Ministro del Turismo ha dato una data ipotetica del 2 di giugno, come apertura del turismo italiano, gli albergatori hanno avvisato che, attenzione perché gli alberghi non sono come la macchina che uno mette dentro la chiave, la gira e parte, qui c'è da attuare una politica di programmazione elevata, quindi bisogna saperlo a priori. E l'idea di creare delle isole Covid-free è già avanti in alcuni posti, per esempio come Capri, Ischi e Procida, dove si vaccina allacremente tutta la popolazione per dare la possibilità ai turisti che vengono dall'estero, tipo gli americani che si possono spostare, di andare in vacanza in queste isole liberamente a certificazione Covid-free. Quest'idea piace tantissimo che anche le isole Eoli e Ponza, Isola Debb e Pantelleria vogliono aderire, ma non solo, vogliono aderire anche alle isole più grandi, come per esempio la Sardegna e la Sicilia, e hanno chiesto aiuto al governo per far sì di essere inserite in questo progetto Isola Covid-free, naturalmente vaccinando il più possibile e il più velocemente possibile tutti i cittadini dell'isola. E infine concludiamo parlando del settore turistico italiano che è stato veramente devastato nel corso del 2020. Pensate che il calo è stato del 44,8% delle vacanze e del turismo invece, dei viaggi di lavoro, del 67,8%. Colossale il crollo invece dei viaggi all'estero, meno 80%, il cosiddetto outgoing per andare in Mar Rosso o in altri posti, completamente devastato per quello. Il 37% in meno sono state le località italiane di efflusso turistico, cioè hanno perso il 37%, e il 90,9% degli italiani ha naturalmente passato l'anno scorso vacanza in Italia, ma altro naturalmente non si poteva fare. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda le Voyager Cup. Vi ricordo che se vi è piaciuto potete mettere like e potete farmi delle domande senza nessun tipo di remora. Potete scriverla qua sotto o inviarmela a info-voyagertraveler.com Vi ricordo che ci potete trovare in Facebook, Instagram, in Twitter e naturalmente qui, naturalmente in YouTube. Le nostre notizie le trovate approfondite su voyagertraveler.com Mentre per le offerte estive, per le vostre vacanze, potete già consultare il nostro sito voyager125.it oppure chiamarci e contattarci direttamente. Vi forniremo naturalmente il preventivo più adatto alle vostre esigenze. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima Voyager Cup One Weekend!